Acquistavano dosi eccessive di disinfettante per sale operatoria a costi maggiorati. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Foggia hanno accertato che 5 funzionari dell'ASL Foggiana avevano messo in atto una truffa ai danni del sistema sanitario nazionale provocando un danno da 1.780.000 euro. Tra il 2009 e il 2011 i funzionari Giovanni Grilli e Nicola Marinaro insieme a Romolo De Francesco, Nazario Di Stefano e Matteo Melchionda avrebbero attivato un giro di acquisti gonfiati a favore degli aziende di Ettore Folcando e di Stefano Frongia. In sostanza i funzionari avevano fraudolentamente liquidato il pagamento di fatture per l'acquisto del prodotto raggiunando le procedure negoziali previste in materia di appalto e senza alcuna autorizzazione della spesa ricevendo in cambio somme di denaro contante o beni di altra utilità per un ammontare di circa 14.000 euro. Le indagini, partite da un esposto anonimo, hanno appurato che solo 90 flaconi del liquido erano stati regolarmente acquistati mentre altri 929 confezioni erano state comprate attraverso procedure irregolari. Ogni singolo flacone di prodotto veniva di fatto pagato 1920 euro alla fronte di un valore di mercato pari a 60 euro. Tra gli acquisti oggetto di attenzione anche 62 confezioni di copri scarpa per un valore di oltre 73.000 euro. Inoltre è stato accertato l'uso di timbri delle unità ospedaliere contraffatti per falsificare la certificazione di avvenuta ricezione della merce. Le sette persone coinvolte sono state denunciate a vario titolo per associazioni a delinquere, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione per un atto contrario e doveri d'ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa ai danni di ente pubblico. Il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto gli arresti domiciliari per il Folcando e Grilli. Frongia è stato interdetto dall'esercizio di impresa mentre Nicola Marinaro è stato sottoposto all'obbligo di dimora. Il GIP ha disposto inoltre il sequestro di beni per circa 1.600.000 euro. Cade grosso masso sulla statale 89 e chiusa in direzione mattinata. L'ANAS comunica che a causa della caduta di un masso di circa 2 metri cubi sulla sede stradale, sulla SS89 Garganica, in corrispondenza del territorio di mattinata, il traffico è stato provvisoriamente interdetto. Il provvedimento è stato adottato dall'ANAS in misura cautelare in considerazione dei procedimenti verificati nelle zone limitrofe e nell'emore di una ricognizione sulle pendici che è stata già disposta nelle prossime ore. Il traffico è deviato sulla viabilità locale in corrispondenza in prossimità dell'area di incrocio e d'ingresso a mattinata in direzione vieste. Sul posto è anche presente il personale dell'ANAS per coordinare l'operazione di chiusura ed installazione della segnaletica. Manfredonia, prevalso il dialogo, revocati i tre licenziamenti alla Vetrotec. Revocati i tre licenziamenti riguardanti altrettanti lavoratori della Vetrotec 2 di Manfredonia, azienda del contratto d'aria. Così dopo l'incontro di ieri pomeriggio in Assindustria Foggia, alla presenza dell'amministratore delegato dell'azienda e delle tre sigle sindacali. Dopo le lettere di licenziamento i sindacati avevano chiesto un incontro con la società al fine di un confronto proteso al dialogo e dunque per condividere ed attivare le soluzioni alternative ai licenziamenti. Il senso di ragionevolezza e responsabilità ha prevalso durante l'incontro all'assindustria Foggia con soddisfacimento di tutte le parti interessate all'avvertenza. Ora si continuerà a lavorare in modo congiunto confinando nella massima produttività aziendale, dichiara il segretario della CISL, Ondretti. Settori giovanili di calcio, aspetti tecnici e sociali. Se ne è parlato a Manfredonia nell'ambito di un convegno nazionale organizzato da Media Blu e al quale hanno partecipato i dirigenti di club prestigiosi come la Lazio, Stefano Favale. Perché Manfredonia è una tappa in cui noi illustreremo qual è il percorso formativo ed educativo dei ragazzi a prescindere dall'eventuale successo personale nel mondo sportivo e nell'ambito sportivo. Quindi l'insegnamento pedagogico perché l'allenatore innanzitutto è un educatore. Quindi famiglia, scuola e sport. Quando questa sinergia funziona i risultati sono assicurati. Lo sport formidabile volano di promozione del territorio, il calcio giovanile e il futuro delle società in un momento di crisi che sta colpendo anche questo settore. Il noto allenatore Lello Sciannimanico. Purtroppo in Italia i vivai, i settori giovanili non vengono spesso presi in considerazione. Invece l'Italia, soprattutto il sud, soprattutto la Puglia, è una fucina di giovani talenti. Che cosa fare? Sì, poi detto a uno che ha fatto per 8-9 anni il settore giovanile nel Bari, preferisce sempre lavorare con i giovani, quindi sfondi una porta aperta. Bisognerebbe solo crederci di più. Purtroppo le società non ci credono, ci sono tante problematiche che creano, il settore giovanile diventa sempre un'ultima cosa da curare e purtroppo questo è un male perché soprattutto le società che non hanno grandi introiti, che non hanno grandi potenzialità lavorare con il settore giovanile secondo me è la cosa migliore che possa esistere. Grazie.